Ancora ferimenti in città, ancora spari in pieno giorno davanti decine di persone a pochi metri da due istituti scolastici. Angelo Arrigo, trentenne, commerciante di frutta e verdura, è stato raggiunto da due colpi di fucile alle gambe nei pressi dell'ingresso del mercato rionale di Viale Giostra. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava davanti al suo banco, posto nella stradina che costeggiava il mercato, quando un motorino con in sella due persone si è accostato. Uno di loro è sceso dal mezzo ed è esploso due colpi di fucile direttamente alle gambe di Arrigo. Poi la fuga. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte, dove le sue condizioni sono apparse subito gravi. Ed è lì che è partita la chiamata alle forze dell'ordine. Sul posto gli agenti della squadra mobili, carabinieri e la polizia scientifica per fare tutti i rilievi del caso. Le indagini procedono senza sosta per capire i motivi legati al gesto. Nessuna pista al momento esclusa, forse un avvertimento o un regolamento di conti.